Benvenuti su News Flash Italia. Vi invitiamo a lasciare un like, commentare e attivare la campanella per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie. Grazie! Chiara Ferragni si sta godendo l'ennesima vacanza in Grecia, insieme ai figli e alla famiglia. Tuttavia, ciò che ha sorpreso i fan è il fatto che la regina del lusso si è immortalata in spiaggia libera, abbandonando temporaneamente il suo stile di vita sfarzoso. Prima dello scandalo del Pandoro Gate, Chiara Ferragni era nota per il lusso e la ricchezza che la circondavano. Tuttavia, dopo l'accaduto, ha cambiato radicalmente il suo stile di vita, mostrandosi in tuta low cost e interagendo con i fan in modo più spontaneo. L'ultimo gesto che ha sorpreso tutti è stato quello di posare con i figli in spiaggia libera, abbandonando le location esclusive che solitamente mostrava. La domanda che molti si pongono è se questo cambiamento sia autentico o solo un tentativo di avvicinarsi alla gente comune. Nonostante la presenza di una borsa Prada sullo sfondo della foto, la scelta di mostrarsi in spiaggia libera sembra contraddire le abitudini lussuose di Chiara Ferragni. Alcuni sostengono che la regina dei social abbia volutamente scelto di mostrare la spiaggia libera per dare l'idea di essere più vicina alla gente comune, nonostante continui a frequentare location esclusive durante la vacanza. Questo atteggiamento contraddittorio ha fatto sì che i follower guardino Chiara Ferragni con occhi più critici e consapevoli. In conclusione la abcela regina della moda e dei social continua a sorprendere e a suscitare dibattiti, mostrando un lato più spontaneo e accessibile ma senza rinunciare alla prossima. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!